Volevo rimarcare alcune cose importanti dal punto di vista di ferrovie. L'esploi a cui stiamo assistendo in questi mesi delle ferrovie, l'esploi che vediamo non solo sui giornali ma di cui vedremo anche prossimamente alcune altre tappe, per esempio è previsto il 24 marzo prossimo il primo viaggio inaugurale del Presidente Berlusconi sulla nuova tratta Roma-Milano che comprende anche la galleria da Bologna a Firenze nel tempo appunto di tre ore, quindi un percorso sostanzialmente di modernizzazione delle ferrovie che porta entro quest'anno la Roma-Milano a tre ore, la Milano-Napoli a quattro ore e la Torino-Napoli a cinque ore, quindi un percorso a tappe forzate di modernizzazione delle ferrovie che dipende però in buona parte anche da dispositivi satellitari. Abbiamo parlato prima, il Dottor Caporale parlava prima appunto di un progetto sulla sicurezza dei trasporti e con noi ovviamente partecipiamo a questi progetti e i dispositivi che abbiamo a bordo dei treni Frecciarossa e degli altri treni alta velocità sono tutti dispositivi che integrano queste due tecnologie, la tecnologia satellitare e la tecnologia GSM-R di cui noi disponiamo che ci permette di avere una connessione costante col treno continuamente e di poter sapere in qualunque momento il posizionamento del treno, le informazioni riguardanti lo stato del treno, la velocità e tutti quelli che sono i parametri che ci permettono di garantire completamente la sicurezza del viaggio. Questo per dare in qualche modo una cognizione di come sia importante la tecnologia satellitare per lo sviluppo dei trasporti ferroviari in questo momento in Italia. Naturalmente abbiamo anche altri sistemi che in qualche modo sono collaterali e che assicurano per esempio servizi a bordo. Per esempio abbiamo tutta la parte che riguarda le informazioni vocali a bordo che vengono assicurate tramite anche servizi adderitari proprio perché i servizi automatici scattano ogni volta che mi sto avvicinando alla stazione e mi avvertono esattamente dell'avvicinarsi delle prossime stazioni e tutti quelli che sono i parametri a bordo che posso dare all'in pubblico. Un altro importante servizio che noi diamo in collaborazione per esempio la Regione Veneto è il servizio di informazione al pubblico su quelli che sono i parametri del treno e anche questo viene fatto tramite tecnologia satellitare. Quindi per esempio tutta una serie di servizi che noi aggiungeremo continuamente che ci impegniamo ad aggiungere che però non possono essere solo servizi informativi ma che vogliono essere sempre servizi a disposizione anche della clientela business a disposizione di chiunque utilizza il treno non solo per motivi di lavoro ma anche per motivi di svago. In quest'ambito siamo molto interessati agli sviluppi del progetto Galileo oggi utilizziamo diverse tecnologie ma è chiaro che auspichiamo che ci sia una tecnologia come Galileo che ci consentirà una serie di servizi innovativi. A questo proposito per concludere mi piacerebbe accennare anche ai prossimi servizi che stiamo studiando per consentire la connessione internet sui treni che prevedono ancora una volta dispositivi di connessione satellitare. Quindi dispositivi che ci permetteranno a partire dalle stazioni dove già noi abbiamo collegamenti wifi tenendo conto della particolare conformazione geografica dell'Italia che ha circa un quarto della propria rete che è in galleria la rete ad alta velocità e quindi noi abbiamo che su 1.060 km di rete ad alta velocità abbiamo appunto un quarto in galleria dove ovviamente dobbiamo utilizzare altre tecnologie. Però stiamo valutando analogamente ad altri paesi europei che già hanno adottato queste tecnologie tecnologie tipo satellitare per poter offrire entro quest'anno ai passeggeri questo tipo di connessione. Pensiamo quindi che sia importante questo obiettivo Galileo che ci siamo dati sia importante per noi tenere sott'occhio queste tecnologie proprio per offrire il miglior servizio ai nostri clienti. Grazie.